guarda quanto amore qua i turisti man mano mangiano l'amore va bene vedrò qui l'albacucens qui già è una visionata e visitata vediamo quest'altra parte l'albacucens adesso andrò di qua va bene addentriamoci ma gli abes medici ci imprattano queste spine ecco gli altri gradini vedi questi sono sì belli è bellissimi adesso faccio vedere il panorama magliana dei marzi scuricola marzicana i piani palentini e questo è albe distrutto il terremoto il 13 gennaio 1915 guardiamo l'area circostante guarda che bel panorama soppermiamoci in particolare al castello orzini del quattordicesimo secolo se non erro adesso facciamo marcia indietro e scendiamo i gradini con la massima cautela e calma e vediamo la restante parte di albe i ruderi un'altra costruzione anche qui tutta una costruzione lo stesso da questa parte vabbè ecco qui comunque l'altro fronte qui c'è l'altro paese di albe i ruderi solo che non è stato pulito c'è albacucens sotto la cittadina romana ben curata pulita c'è una flusso enorme di turisti e qui niente ecco qua guarda che ci sta qua ha un'enorme costruzione che va sotto e ci protrae in alto protesa protrae guarda bella la sento le cornacce che la venda vediamo qui che c'è qua l'ediatra rampicante un vasto caseggiato più di tanto non si vede avviciniamoci a questa parte allora che c'è l'altra cantina grotta ora vediamo se si può entrare ecco il magnifico castello Orsini proseguiamo da questa parte e pian piano arriviamo alla fine della visita si qua ci sono entrate a proposito vediamo questa costruzione qui già ci sono entrate da parte del sottoscala e qui che c'è qui ah qui l'ho anche visitata si adesso mi conviene ah questa parte qui la dobbiamo visionare proseguiamo da questa parte vabbè qua bisogna parlare calma perché quando uno parla veloce non si capisce assolutamente niente io sono abituato a parlare veloce ma si deve parlare con calma per recepire percepire vedere visionare quello che è pubblico di qua di là che ci sta questo l'ho anche pubblicato sì ecco le altre costruzioni qua penso che siamo arrivati ah ecco il castello Orsini bellissimo c'è qualche mosca qui che c'è e qui tutto all'abbandono tutto abbandonato guarda 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 che bella costruzione là e come ci si va là non lo so ah forse da quella pa e ancora ci sta vabbè oh qua ci sta un'altra costruzione adesso io vedo di andare sotto e di fare quel percorso lì sotto oh